Nessuna donna mai, di Tiziana. Stava accadendo a me. Ero proprio io, dentro al bungalow di un campeggio, bloccata da un piede rotto, a subire il violento attacco verbale e fisico di quell'uomo che sosteneva di amarmi tanto. In quel preciso momento ho compreso l'inutilità delle parole che si spendono sulla violenza di genere e dei consigli che dispendiamo a chi ne è vittima. Non avevo mai messo in conto che avrei dovuto fronteggiare una tale situazione nella vita. Credo che nessuna donna se lo immagini, ma la realtà è che nessuna è mai al sicuro. La sua furia si alimentava della mia indifferenza, ma io ero solo paralizzata da una tavica paura che la situazione degenerasse. L'avevo visto troppe volte accadere a mia madre per non essere consapevole che avrebbe potuto succedere. Dalle urla agli schiaffi. La rabbia usciva dai suoi occhi, dal naso, dai gesti. Ogni cellula del suo corpo era intrisa di collera e la stava indirizzando a me, colpevole della sua frustrazione e di una qualche mia non ben specificata colpa.